L'OVACIVA 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 Dolce, bellissimo, forte, coraggioso e libero Paul. Mi hai dato una direzione. Mi hai dato una casa e uno splendido figlio. E vi sarò sempre accanto. Thomas oggi ha morso un suo compagno di classe. Gli ha staccato un pezzo di carne. Non c'è niente di malsano in un po' di competizione, insomma. Cosa intende per competizione? Mi spaventa. Thomas! Thomas! Calma, che adesso? No, Paul. Vieni qui. Non sei un animale! Come potete vedere, si sta distruggendo dall'interno. Questo è un processo misterioso, lento e crudele. Che razza di bambino sei? Che diavolo hai di sbagliato? Lui mi provoca. E tu non te ne accorgi. Siamo finiti, Paul. Stavolta hai passato il segno. Non sono sicura che Thomas potrà mai migliorare. E che cosa mi propone? Porca puttana, che cosa mi propone? Caro Paul, sapevi già come sarebbe andata a finire. Che se urmata... Co? Chi? 그대로... Che se urmata... Che si urmata...